Allora, carissimi amici dell'apocrotomia, location della registrazione è diversa, non è più il bagno ma è il mio salotto della montagna e questo video è dovuto perché inizialmente devo chiarire quello che molti non hanno compreso o non hanno voluto comprendere. Devo ringraziare chi invece l'ha compreso ma devo avvertirle che purtroppo viste le cattiverie e le insinuazioni fatte io non ho nessuna intenzione a questo punto di proseguire una strada che secondo me era una strada assolutamente normale e percorribile mi scuso se la telecamera non è dritta e anche la comunità dell'immagine ma solo per una questione di spazio perché qua non ho una connessione internet veloce come quella di casa o ce l'ho veloce ma non velocissima. Allora, io vi prego, visto che questo potrebbe anche essere, potrebbe, non è detto, adesso studierò, se valvoterò, non è che lo faccio per, non me la sto tirando, devo pensarci, potrebbe anche essere l'ultimo video, non il mio. Vi prego di ascoltarlo dall'inizio alla fine, non sarà breve però è importante ascoltare ogni passaggio perché ogni passaggio è importante per comprendere quello che semplicemente è qualcosa che secondo me è pacifico ma è qualcuno interpretato come chissà quale tentativo di fare cosa. Premessa numero uno. Allora, il premesso numero uno è questa. Chi produce video su YouTube, i famosi YouTuber che qualche, simpaticamente qualche, qualcuno dei fin YouTuberi, non lo fanno generalmente per la gloria ma lo fanno per il denaro. Questa è una cosa che caratterizza tutti, praticamente, quasi tutti di YouTuberi e chi non lo fa per denaro lo fa perché in realtà ha introiti, sì, lo fa per denaro, cioè ha introiti dalle monetizzazioni. Ora, io in questi anni ho parlato con numerose persone che fanno, producono video su YouTube e di qualsiasi genere merceologico, cioè dalle moto, alle auto, agli orologi, i cosmetici delle donne, insomma, nessuno mi ha mai detto che il materiale se lo doveva acquistare. Cioè, il gioco, al netto delle visualizzazioni che poi ti creano, se monetizzi, cosa che io non ho fatto, questa è ancora anche la cosa incredibile, se monetizzi le pubblicità che YouTube ormai ti impone, una volta potete anche scegliere di non mettere, ormai te le impone, ti permettono di avere visualizzazioni e di monetizzarle. Ora, è chiaro che il nostro settore di nicchia, quindi, pertanto che tu vuoi monetizzare, non arriverai a 30-40 euro al mese, ma se proprio sbacchi, ecco, voglio dire, se io facessi, non so, orologi piuttosto che cose più, videogiochi, non parliamone, c'era quello che mangiava, che poi è mancato, poverino, quello faceva un botto, cioè voglio dire, tu su YouTube puoi guadagnare veramente milioni di euro come guadagnare centinaia di migliaia di euro, come guadagnare decine di migliaia di euro, oppure farti lo stipendio, ecco, per capire, cosa che io non ho mai, chi mi conosce, perché poi chi mi conosce lo sa, cioè, mi ha sempre visto, mi ha sempre visto come sono fatto, sono abbastanza trasparente, cioè mi sembra di, no, mi sforzo di essere trasparente. Ora, cosa succede? Succede che io nel 2016, mi sembra che ho iniziato, 17, se non è vero più, mi sono andato un po' a parlare della scimmia, come si dice, no, quindi ho acquistato in maniera compulsiva, lo ammetto chiaramente, non è un problema, rasoi, saponi, cioè, sono arrivato a un certo punto che è di recensivo, li facevo vedere, contemporaneamente, chiaramente spiegavo quello che era la mia esperienza, perché io ho iniziato a radermi con questo mondo nel 2000. Tre anni fa, diciamo che la scimmia probabilmente è scappata da qualche altra parte e io ho riacquistato il dono del comprandonio. Ho fatto due conti e ho detto, ma stiamo spendendo troppo, cioè, non ha senso acquistare saponi che, ripeto, non riesco neanche a finire nella misura del 10% di quelle che ho. E si tratta di roba ormai vecchia, cioè, per dire, io ho un sapone che è al tallo che ormai sa di... non di buono, diciamo così, eppure meccanicamente funziona, quindi lo uso, non mi crede del danno, però non è più quello di una volta. Allora, io tre anni fa ho detto, boh, siccome io sono sempre stato autonomo, io ho sempre, tranne qualche rarissimo caso, 10 cosmetiche, ecco, mi ha regalato i pennelli che io recensivo, qualche produttore mi ha regalato dei saponi, ma parliamo di, su 100 recensioni, 5, ecco, ma proprio, ecco, qualcuno mi ha spedito gli rasoieschi, progetti, va bene, ma parliamo anche lì di pochissime, cioè, no, una percentuale irrisoria, no, rispetto a quello che io ho fatto. Ora, io avevo messo una pietra sopra a questa attività, proprio perché non volevo fare niente. Attenzione, guardatevi in giro, c'è gente che chiede l'abbonamento, c'è gente che chiede, altro che chiedere i 50 centesimi in un euro, c'è gente che chiede, guardatevi in giro, dico, non c'è bisogno che io ve lo dica, devo fare nomi. Ora, io avevo messo una pietra sopra, tre anni fa, quindi, dico, basta, se andatevi a vedere c'è un messaggio in cui io spiego che non posso più sostenere queste spese che erano, immaginatevi, almeno due o tre sette al mese più i rasoi, più i rasoi, rasoi da tre, quattrocento euro, cioè, attenzione. Allora, ho detto, è assurdo, anche questi rasoi, mentre all'inizio avevano delle particolarità uniche, no, sono poi diventati una copia di uno dell'altro, cioè, tutti validi, tutti eccezionali, tutti buoni, non discuto, però niente di clamoroso, no, c'è da dire, ecco, questo qua mi ha cambiato la vita, no, cioè, ho poi capito che al netto del fatto di avere un ottimo rasoio d'acciaio, io, un ottimo rasoio, ad esempio, ecco, mi sono reso conto che alla fine ne usavo tre o quattro, proprio per divertirmi, di più no, cioè, nel senso che una volta che uno prende la mano, si diverte, si rade bene con qualche rasoio, cioè, alla fine, il migliore è ancora il vecchio, il vecchio, Edwin Jagger, voglio dire, cioè, paradossalmente. Ora, metto una pietra sopra, seguitemi. L'anno scorso, a Ferragosto, siccome ho creato, e anche qua, forse ho fatto un errore, perché poi questo gruppo è andato fuori controllo, noi del nucleo storico, che siamo, fondamentale di tre, più il preziosissimo contributo che Matteo Preda ci ha dato, e lo ringrazio, lo ringrazio, non per forma, attenzione, non per forma, forse è un errore a crearlo, perché le cose quando le fa, deve farle bene o non le deve fare, questa era la mia idea. Ho fatto gli auguri di Ferragosto, mi sono arrivati, e non sto scherzando, centinaia, è dimostrabile, io posso anche fare gli screenshot e mettere, magari coprire i nomi per un senso di privacy, o anche no, ma non voglio, di persone, ma dai, continua, ti vogliamo in video, i video della domenica, benissimo. Allora, siccome, ripeto, non ci guadagno un euro, ok, non mi danno una mazza, produrre video è qualcosa che chi lo fa lo sa, non è così immediato, così facile, devi prendere, devi fare, devi pensare, a cosa dire, devi caricare i video, devi, insomma, non è uno scherzo, è una cosa che ti porta via tempo, la domenica mattina ti porta via tempo, allora, tempo che potresti andare a farti la corsetta, potresti andare a farmi le altre cose. non è un rinfaccio, chiaramente, semplicemente, spiegare che cos'è questa cosa qua, che cos'è, no? Perfetto. A un certo momento, a un certo punto, io mi ritrovo a corto per scelta di novità, e quindi dico, se tutta questa gente vuole, io quasi mi commuovo, e non sto scazzando, vuole che io ritorni, devo trovare una soluzione sostenibile, sostenibile, per poter proseguire e divertirmi, perché se no, se no mi diverto, perché devo farlo? Io mi diverto se recensisco prodotti nuovi, se presento prodotti nuovi, ma senza fare la marchetta, anche se delle volte è chiaro che se qualcuno ti regala qualcosa, sei un po' condizionato, ma lo dico chiaramente, è evidente che se tu mi regali, tu, X, chiunque di voi mi regala un qualcosa, io non è che dico, guarda che fa schifo, no? Magari lo penso. E allora io cosa ho fatto? Ho pensato, dire, cerchiamo di vedere se si può trovare una soluzione sostenibile per me, sostenibile, scusate i capelli che oggi sono presbitero, sostenibile per il pubblico, che permetta di salvare capra cavoli, no? Perché, ripeto, mi devo divertire io e si devono divertire quelli che mi chiedono, io dico voi, ma magari qualcuno mi dirà a me non mi frega niente, ma benissimo, quelli, i tanti, che mi chiedono di farli. Ho chiesto ai produttori, i produttori mi hanno detto, guarda, allora alcuni mi hanno dato delle cose, perché a me interessava avere una continuità, cioè tu produttore X mi garantisci due sette al mese in modo che io possa recensirli? bene. In realtà alcuni che ringrazio, e non faccio i nomi perché non voglio, mi hanno mandato delle cose, ma a spot, no? Ecco, cioè non dicendo va bene, allora io ogni mese ti mando uno, un set, va bene, facciamo un video al mese, te ne mando due, te ne mando tre, te ne mando quattro, me li restituisci anche se vuoi, ma solo che chiaramente è ovvio che se uno recensisce moto o cellulare li restituisce, se uno, e il guadagno ce n'è un'altra parte però, se uno, a parte che non è un guadagno, ripeto, io ho i frigoriferi pieni di roba vecchia, cioè io non avrei problemi, ma davvero, a prendere i set e a fine mese, perché è una scocciatura, l'ospedizione, ogni due mesi, estrarre a sorte uno e mandargli tutto materiale, magari mi ritengo uno, ecco, per dire, cioè, anche perché io ci metto tanto a finire un sapone, cioè perché io mi rado due barra, ogni due o tre giorni, quindi non è che veramente io in montagna, comparato a casa del 2019, portato i 20 saponi, mi ritrovo con 17 saponi, e vengo spesso, vengo nei weekend e vengo in estate, almeno 15-20 giorni, quindi per farvi capire quanto io, qualcuno mi ha detto, ah, tu ti tieni i saponi, ma per me è una scocciatura, quindi tenerli poi, quindi se qualcuno, no, mi avessi detto, guarda, fai una riffa poi e dai su otto saponi che ricevi, danne sette in, perché uno magari non ottiene come mi piace, non banalmente, danne sette, anche perché io ci metto dei soldi, perché io ho detto, 20 euro ne metto io, non è che, ok? Quindi i produttori mi hanno detto, guarda, Marco, il problema è che noi siamo in un momento di difficoltà tutti quanti, abbiamo capito che, e non vale solo per me, vale anche per ben altri youtuber ben molto più noti, non faccio nomi, che oggi contestano il sistema, a un certo punto a noi, noi non abbiamo un ritorno commerciale, perché loro pensano a quello, giustamente, ognuno, ripeto, e siamo sempre lì, ognuno pensa al suo, no? Io penso a divertirmi, quello pensa a guadagnare, l'utente pensa a divertirsi anche lui, a vedere le mie buffonate, mentre mi faccio la barba, che poi alla fine si parla di farsi la barba. Quindi quella soluzione lì non ha funzionato. Questo ferragosto qua, di nuovo, stessa cosa, addirittura, io non sto scherzando, 4 o 5 persone, in anni, mi hanno fermato per la strada, ma anche di più. Ah, ma sostanzialmente quello della rasatura, perché no? A quel punto uno dice, ma perché non cerchiamo una soluzione sostenibile? Ora, io cosa ho pensato? Se io ho 4.500 iscritti, anche perché mi sono fermato, quindi se no andavano avanti, no? E ogni video faceva 1.500, 2.000 visualizzazioni, ma se solo 200 persone mettono un euro, io ne metto 20. E acquistiamo, magari decidendolo insieme, un set, 4 set al mese, per poter rendere sostenibile questa cosa, con piena trasparenza. Cioè non è che io volessi guadagnarci, cosa me ne frega di avere, ripeto, sono pieno di roba da finire, che regalo a mio fratello, che regalo agli amici, perché non so più dove metterla. Quindi, l'idea era, non posso svenarmi, e non voglio svenarmi più. Tanti rasoi li ho venduti, perché erano uno uguale all'altro, alla fine resa. I saponi non li vendo perché lo ritengo antigenico. E poi, adesso, i saponi con cui mi sono fatto la barba domenica, è di domenica, 7. Attenzione. Quindi, ho detto, se veramente tante persone vogliono vedermi in video la domenica, facciamo una cosa sostenibile, mettiamo 50 centesimi a testa, 400 persone che mi seguono al mese, 50 centesimi, ma non per regalarli a Marco Traverso, perché si vada a comprare non so cosa, ma per semplicemente acquistare i prodotti, recensirli, e poi vi dico anche di più regalarli, cioè non c'è nessun tipo di problema, ok? Nella massima trasparenza. Alcuni hanno aderito, addirittura con cifre ben più alte di 50 centesimi, che sono state restruite, eh, attenzione, restruite, perché qui nessuno vuole, ok? Quello che mi ha ferito sono i commenti di gente che ha pensato che io avessi tentato di fare una cosa che tra l'altro sarebbe stata legittima, eh, guadagnare. Ora, in questo paese guadagnare è un reato. Guadagnano tutti, ma io non avrei voluto farlo, cosa che non volevo farlo e non voglio farlo. Ma già pensare, no, che uno, ah, ci vuoi guadagnare. E tu perché mi vedi allora? Cioè, il tuo asuto gratis? Cioè, ma detto che, ripeto, è una parentesi per dire che anche avessi voluto, non ci sarebbe stato niente di male. Perché io ti offro un servizio schifoso, ridicolo, non professionale, ma che te lo tu ti guardi e lo vuoi pagare 50 centesimi al mese, detto che non è quello, premetto, sottolineo, non è quello, non era quello il fine, ok? Il fine era semplicemente poter avere il materiale e poter fare i video. Ma anche fosse stato, cioè c'è gente, ripeto, andatevi a vedere i vari canali, che chiede, che chiede l'iscrizione, che ringrazia, c'è niente di nuovo sul sole. Non so se queste persone ci guadagnano o lo fanno per i prodotti, ma lo fanno. Sentirmi dire da uno che ha vergogne, poi vai a vedere, questo è un canale che ha provato a fare la sottatura, 25 iscritti, capisci tutto? Allora, un altro, cosa sento nelle mie orecchie? Ma ragazzi, ma guardate YouTube, di cosa stiamo parlando? E ripeto, l'anomalia è che io non voglio guadagnarci in questa cosa, per ora, perché poi magari un giorno mi metto a fare i videogiochi, io so fare tante cose, non è che ci guadagni, mi metto a fare gli orologi e ci guadagni, mi metto a fare le stilografiche e ci guadagni, quindi, attenzione, non era questa assolutamente la mia finalità. Ora, io ho avuto commenti di persone civili che mi hanno detto, guarda Marco, io non sono d'accordo, poi io gli chiederei, ma allora perché mi guardi? Cioè, ritieni che sei venuto gratuito, ritieni che la gente, specialmente in un mondo così di nicchia, dove non c'è nessuno che ti aiuta, perché chi registra i orologi, no? Cosa fa? Andate a vedere. Ringraziamo la giochilleria Pinco Pallo che ci ha dato, no? Poi questi, io non so se vengono pagati, ma sicuramente hanno intanto un settore merceologico in cui le visualizzazioni sono molte di più e quindi monetizzano molto di più. e poi sicuramente hanno queste persone che gli danno il materiale che sicuramente non glielo regalano, perché non puoi regalare uno orologio a 3.000 euro, è ovvio, a settimana, ma sicuramente o verranno retribuiti oppure immagino avranno dei forti sconti su quello che recensiscono. Quindi, nessuno si permetta, e lo dico in maniera drastica, di anche solo alludere al fatto che questa mia idea, magari sbagliata, ma non credo, fosse finalizzata al lucro. Anzi, consentoni poi a pensarci, era sbagliata che non posso finalizzare al lucro. Quindi, sono talmente arrabbiato di questa cosa, perché, ripeto, uno cerca, magari sbagliando, ma non credo, di rendere sostenibile il canale. Sostenibile vuol dire che mi devo divertire anch'io, perché ragazzi non è che mi è pensare solo a se stessi, io penso a me e agli altri, penso, spero, ma cercate di farlo anche voi, cioè, non è che, ah, ma l'importante è far vedere, ho capito, ma io non mi diverto, cioè, io mi diverto se ho qualcosa da proporre, da dire, ma guarda, questo mi piace, questo non mi piace, questo monta bene, questo monta male, benissimo. Ho preso atto che ci sono tanti anche alcuni maleducati, ecco, diciamo così, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio sbagliare perché sono veramente fuori, grazie di Dio, ma non tanto per il fatto che uno possa scegliere, ripeto, siete liberissimi di dire, guarda, sai che c'è? No. Ma non di insinuare, non di sfottere, non di insultare. Quindi, x tantibus rebus, come dicono i latini, tanto per concludere, io ho preso atto di queste reazioni, di questi, di queste anime candide che addirittura sono in grado di dirmi cosa sentono, no, come dire, ah, come se avessi rapinato una banca, ecco, voglio dire, non sono nelle condizioni di continuare a produrre video, perché non mi diverto così, perché non posso proporvi articoli di dieci anni fa, perché non posso continuare a fare cose già fatte, perché se voi volete sapere come io faccio il contropelo, andate a vedere i video precedenti e lo vedete, quindi non è che, cioè, come io faccio il pelo brico, come io faccio la passata dei baffi, cioè, non è che tutte le volte vengano ripetere la stessa cosa. Quindi, tutto a monte, non ho restruito, ripeto, e ringrazio queste persone perché hanno capito, non tanto per quello quanto hanno offerto, perché hanno capito lo spirito, e a questo punto basta, cioè, non ci sono per me le condizioni per andare avanti. Quello che vi chiedo non è, ad alcuni chiedo le scuse, perché, ripeto, le illazioni sono state per me una coltellata, è qualcosa di inaccettabile. Ad altri, però, dico, non chiedetemi, però, più, ah, no, torno, non tornare, perché evidentemente se un sistema sostenibile dà due soldi, cioè, ripeto, non si trattava di mettere 50 euro, 20 euro, 10 euro, 5 euro, ma si trattava di, che quelli che, ripeto, centinaia e centinaia, perché poi negli anni, no, negli tre anni arrivavano, no, avessero messo anche solo 50 centesimi in 400, tu, più di 20 euro, si compravano 4 o 7, e in un mese facili 4 video. Allora, se tu non sei disposto a fare questo nella piena trasparenza, ripeto, con lo scontrino, posso anche restruirli, cioè, nel senso, fare una rifa ogni due mesi, ogni due mesi perché io non ho tempo di andare ultimamente a spedire, a fare, così, non mi interessa a me avere il prodotto e tenermelo, anche perché generalmente ne uso uno e mi dura tre mesi, ma va bene così, tutto ovviamente alla luce del sole, se questo è considerato un qualcosa di inaudito, ne prendo fatto, e però sappiate che non ho altre soluzioni che dire veramente adesso è finita. Perché se prima io non ho usato e non ho magari avuto l'intuizione di chiedere, di cercare soluzioni alternative, l'anno scorso mi sono cervellato, che poi non è che ci vuole molto, chiediamo ai produttori, i produttori mi hanno detto no, perché non li stiamo vedendo nessuno, in quanto non ci fanno guadagnare e io me ne prendo atto, loro sono dei commercianti e devono guadagnarci. Mi appello allora ai follower, no? Anche perché io potrei anche dire monetizzo e con la monetizzazione investo in questo, ma con questi numeri della rasatura non riusciamo a, cioè, con la rasatura uno potrebbe farsi, ma veramente esagerando, con, non so, 90 euro ogni tre mesi, ecco, cosa fai? Allora, oltretutto devi giustamente pagare le imposte, perché non è che YouTube non fatturi, quindi di quei 90 euro devi ancora a partire la parità IVA, follia, follia. Quindi non si può fare, vi saluto, vi ringrazio e ringrazio i tanti che hanno dimostrato affetto, ma evidentemente non hanno ritenuto di dover contribuire al fatto che il canale sopravvivesse, scelta loro a chi io rispetto, biasimo chi mi ha insultato e mi ha insultato perché dire che io chiedo le remosina, tu chiedi le remosina, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Io chiedo semplicemente un, ho chiesto, ho proposto, neanche chiesto, di trovare una soluzione che prevedesse un contributo che poi pagavo anch'io perché io mettevo 20 euro al mese, non è che non mettesi niente, attenzione. Poi uno poteva dirmi, allora guarda, facciamo così, facciamo cosà, ripeto, c'erano mille soluzioni, era una idea. Ne è nato un polverone, ovviamente a me, siccome non mi intasca niente, non me ne frega nulla, benissimo, va bene così, vi ringrazio, vi saluto. Chi vuole vedere come si fa il pelo brico, come si fa il pelo traverso, come si fa il come si fa il montaggio, secondo me, secondo me ovviamente, non è che sono, non sono Gesù Cristo che è stato in terra della latatura. Ha a disposizione tanti anni di lavoro di video. detto questo, vi saluto, spero di aver chiarito, l'importante è questo, aver chiarito che non c'era nessun secondo fine. Ma attenzione, se anche un giorno ci fosse e mi mettessi a recensire cose più attrattive, non ci sarebbe nulla di male. In questo caso non c'era. Deve essere chiaro, una volta che è chiaro questo, bene tutto. La maggioranza ha fatto la sua scelta e basta. Quindi io vi saluto, vedremo se prossimamente qualcuno o chiuderò il canale oppure, visto che ho messo al sicuro il brand che rimarrà ovviamente con l'unica prima di milità, e vedere se continuare una tantum a fare qualcosa o se trasformarlo in qualcosa di diverso che mi diverta. Ecco, questo è il discorso. Grazie a tutti, comunque, a chi mi ha buttato fango in maniera, secondo me, ignobile, e a chi invece ha compreso, e soprattutto a chi invece ha contribuito, al quale è stato restituito tutto, e ci vediamo quando ci vedremo. Un saluto a tutti e naturalmente buona barba a tutti.